Si è sciolta ieri la riserva sulla riapertura delle scuole in Campania. Lo scorso 14 novembre il Presidente De Luca aveva annunciato il ritorno alla didattica in presenza dei servizi dell'infanzia e delle prime classi della scuola primaria, a partire al 24 novembre. Premi e effettuazione di screening su base volontaria sul personale docente e non docente e sugli alunni. Il primo a sollevare dubbi sulle riaperture è stato lo stesso governatore nella diretta ai venerdì scorso, in cui ha annunciato che non avrebbe riaperto con dati preoccupanti. Invece ieri la conferma con l'ordinanza numero 92. Scuole dell'infanzia e le prime elementari torneranno in classe da domani, 25 novembre. Tuttavia molti genitori hanno espresso preoccupazione nel mandare figli a scuola, mentre in ondata epidemica ancora numeri alti e la campagna resta ancora in zona rossa. Perplessità condivise anche da numerose amministrazioni locali, che dovranno organizzarsi per mettere in sicurezza gli istituti scolastici. L'Anci Campania aveva raccolto tali richieste in una lettera inviata a De Luca in cui si domandava appunto l'opportunità della riapertura in questo periodo. Queste perplessità si sono tramutate infatti, o meglio, in ordinanze, dato che ai sindaci è data comunque facoltà di limitare l'apertura delle scuole sulla base dei dati epidemiologici locali. Il sindaco di Torre del Greco, Giovanni Palomba, ha deciso di tener chiuse le scuole fino almeno al 5 dicembre. È una fase complessa, come più volte in più sedi ribadito, commenta il primo cittadino, per la quale scegliamo la linea della cautela e della prevenzione. Della stessa opinione il sindaco di Torre annunziata, Vincenzo Ascione, che con ordinanza ha chiuso le scuole fino al 30 novembre. È probabile che nelle prossime ore altri comuni seguiranno la linea della cautela per non rischiare il ritorno fra i banchi incerto, senza poter garantire la sicurezza di insegnanti, famiglie e soprattutto dei piccoli alunni.